Sono stati il forte vento e le temperature non proprio primaverili a caratterizzare la Pasquetta 2010 in provincia di Potenza. Rimandate le scampagnanti all'aria aperta, si è optato per l'itinerario storico-culturale. Tra le località più gettonate, Baglio di Basilicata, che oltre ai caratteristici borghi, alla spettacolare chiesa quattrocentesca e ai resti archeologici risalenti al II secolo a.C., il santuario del Dea Mefite, un importante luogo di culto, ha regalato ai visitatori un viaggio nel Rinascimento italiano, una tavola linea inedita, raffigurante la sacra famiglia di Giovan Battista attribuita al Verrocchio e soprattutto una mostra speciale dedicata alle macchine di Leonardo, dalle più note macchine volanti e da guerra allo scafandro e alla pianola portatile utilizzata nei cortei, che hanno sorpreso per la loro attualità. La zona del Vulture Melfese, il castello di Lago Pesole, edificato da Federico II di Svevia nel 1242, sui resti di precedenti costruzioni in Ormanno Sveve e d'Angioine, utilizzato da Carlo I d'Angio come prigione di lusso e rifugio nell'Ottocento di quattrocento briganti capeggiati da Carmine Crocco, ha attirato numerosi visitatori pugliesi. Da Lucera? Da Lucera, come mai avete scelto il castello di Lago Pesole? Noi stavamo da amici in Gambagna qui a Filiano. È una regione interessante, poco abitata, ma interessante.